Nel 1545, Gerolo Macardano, che fu un matematico, medico, astrologo e filosofo, pubblicò la sua maggiore opera matematica, Lars Magna, che conteneva le formule per risolvere l'equazione di terzo e di quarto grado. L'equazione di terzo grado che veniva risolta era x alla terza più px uguale a q, e Cardano scriveva la poesia. Quando che il cubo con le cose appresso si agguaglia a qualche numero discreto, trovano due alti differenti in esso. Dopo tre è questo per consueto, che l'or prodotto sia sempre uguale al terzo cubo delle cose netto, e il residuo poi suo generale, degli lor lati cubi ben sottratti, vorrà la tua cosa principale. Cardano afferma quindi che trovando due numeri u e v, la cui differenza sia q e il prodotto di terzi alla terza, una soluzione dell'equazione è x uguale radice cubica di u meno radice cubica di v. La formula era stata scoperta, in ricerche indipendenti, da Nicola Fontana, detto Tartaglia, e da Scipione del Ferro, il quale ultimo la comunicò in prossimità della propria morte a suo allievo Antonio Maria del Fiore, detto Floridus. Tra Tartaglia e Floridus scoppiò a naspre polemica, che sfociò nella sfida di risolvere ciascuno 30 problemi predisposti dall'avversario, entro una certa data. A quel tempo non si usavano i numeri negativi, quindi le equazioni venivano scritte spostando i termini nei due membri in modo che tutti i coefficienti risultassero positivi. Mentre Tartaglia sapeva come risolvere tutte le diverse tipologie di equazioni di terzo grado, Floridus sapeva destreggiarsi soltanto con un tipo. Così quando Tartaglia presentò all'allievo di Scipione del Ferro 30 equazioni di tipologie tutte diverse da quelle che questi sapeva risolvere, vinse a man bassa 30 a 0. La risoluzione di un'equazione di terzo grado generica x alla terza più bx alla seconda più cx più d uguale a 0 può essere ricondotta alla forma t alla terza più pt più q uguale a 0 mediante la sostituzione x uguale a t meno b fratto 3a. Risulta che p è uguale a c fratto a meno b alla seconda fratto 3 alla seconda e q è uguale a d fratto a meno bc fratto 3 alla seconda più 2b alla terza fratto 27a alla terza. Una soluzione dell'equazione è data da t uguale a u più v, dove u è la radice cubica di meno q mezzi più radici di delta, v è la radice cubica di meno q mezzi meno radici di delta e delta, che essenzialmente è il discriminante dell'equazione, è uguale a q alla seconda fratto 4 più p alla terza fratto 27. Nessuno ti chiederà mai di conoscere o di applicare queste formule. Il motivo per cui tutte le odette è che permettono di far emergere un aspetto molto interessante. Un teorema dell'analisi afferma che ogni equazione intera di grado dispari e a coefficienti e incognita reali ha sempre almeno una soluzione reale. Considera l'equazione x alla terza meno 6x più 4 uguale a 0, che è di terzo grado. Essa deve avere almeno una soluzione reale, ma per calcolarla usando la formula generale che abbiamo visto è necessario calcolare la radice quadrata di delta, q alla seconda fratto 4 più p alla terza fratto 27, che è uguale a 16 quarti meno 216 ventisettesimi, cioè a 4 meno 8, che è uguale a meno 4. Cosa che nell'insieme dei numeri reali è possibile. La situazione è molto diversa rispetto al caso dell'equazione di secondo grado, dove il fatto che il discriminante sia negativo implica la non esistenza di soluzioni reali. La nostra equazione, infatti, come puoi convincerti facilmente, la soluzione x uguale a 2. Possiamo dire di più però. Se dividi x alla terza meno 6x più 4 per x meno 2, ottieni il quoziente x alla seconda più 2x meno 2. Quindi l'equazione può essere scritta nella forma x meno 2, che moltiplica x alla seconda più 2x meno 2 uguale a 0, e puoi controllare che il secondo fattore sia nulla per x uguale a meno 1 più o meno radice di 3. Quindi l'equazione ha tre soluzioni reali, nessuna delle quale è calcolabile nr con la formula che ti ho descritto. Ma allora è sbagliata la formula? La risposta è no, perché, per esempio, funziona perfettamente nel caso dell'equazione x alla terza più 6x più 7 è uguale a 0, dove più uguale a 6, q uguale a 7. Quindi delta è 49 quarti più 8, cioè 81 quarti. Per cui u è la radice cubica di meno 7 mezzi meno 9 mezzi, che fa meno 2, v è la radice cubica di meno 7 mezzi più 9 mezzi, che è uguale a 1, e quindi x, che è uguale a u più v, cioè meno 2 più 1, che fa meno 1, è proprio una soluzione. Si tratta, allora, di dare significato alla formula in tutti i casi, in particolare quando delta è negativo. In altre parole, bisogna dare un senso alla radice quadrata di un numero negativo. Osservando che ogni numero negativo è il prodotto di meno 1 per il suo valore assoluto, e che dei numeri non negativi è sempre possibile estrarre la radice quadrata in R, non rimane allora altro che dare significato alla radice di meno 1. Il metodo più semplice è quello di pretendere che tale numero esista. Dagli un nome e vedere cosa succede, nello specifico capire come si comporta rispetto alle operazioni aritmetiche. Ma se diamo un nome a radice di meno 1, in solito viene chiamata i, che significa unità immaginaria, allora ogni espressione letterale contenente solo questa lettera i deve rappresentare un numero. In particolare, ogni polinomio costruito con la lettera i deve rappresentare un numero. Per esempio, i alla terza meno 5i alla seconda più 2i meno 1 deve essere considerato un numero. Accade però, come nel caso delle frazioni, che polinomi diversi rappresentino lo stesso numero. Perché ciò accade? Semplicemente perché i deve soddisfare una proprietà ben precisa per poter essere considerata la radice di meno 1. Il suo quadrato deve essere uguale a meno 1, quindi i alla seconda più 1 deve essere uguale a 0. Da ciò segue che due polinomi in i, che differiscono di un multiplo del polinomio della seconda più 1, devono essere considerati uguali. Per esempio, i alla terza meno i devono essere considerati uguali, perché la loro differenza è i alla terza più i, che si può scrivere come i per i alla seconda più 1, cioè i per 0 che fa 0. La formalizzazione matematica del ragionamento che abbiamo appena fatto è la seguente. Indichiamo con R di i, con i tra parentesi quadre, l'insieme di tutti i polinomi nella lettera i che hanno coefficienti reali. E introduciamo una relazione secondo la quale il polinomio A di i e il polinomio B di i sono in relazione tra loro se e solo se esiste un polinomio Q di i tale che A di i meno B di i è uguale a Q di i per i alla seconda più 1. Si constata facilmente che questa è una relazione di equivalenza, cioè che è riflessiva, simmetrica e transitiva. Inoltre, essa è compatibile con le operazioni di addizione e moltiplicazione, nel senso che se A1 di i equivalente ad A2 di i e B1 di i equivalente a B2 di i, allora A1 di i più B1 di i è equivalente ad A2 di i più B2 di i e A1 di i per B1 di i è equivalente ad A2 di i per B2 di i. L'insieme quotiente di questa relazione, cioè l'insieme di tutte le classi di equivalenza, si chiama insieme dei numeri complessi e si indica con c. La costruzione è analoga a quella che permette di costruire numeri razionali a partire dalla frazione. Dato che esistono frazioni equivalente, ciascuna di essa rappresenta lo stesso numero razionale. In questo caso, invece, polinomi equivalenti rappresentano lo stesso numero complesso. Come utilizziamo le frazioni per rappresentare i corrispondenti numeri razionali? Allo stesso modo, utilizzeremo i polinomi nella lettera I per rappresentare i numeri complessi. Le operazioni tra i numeri complessi si calcoleranno allora semplicemente come le operazioni tra i polinomi, tenendo conto però della relazione che definisce l'unità immaginaria, cioè i alla seconda equivalente a meno 1, per semplificare la scrittura. Osserviamo prima di tutto che le potenze di I come esponente pari corrispondono a numeri reali, in particolare I alla 0 uguale a 1 per definizione di potenza, I alla seconda uguale a meno 1 per definizione di I, I alla quarta uguale a I alla seconda per I alla seconda, cioè a meno 1 per meno 1 che fa 1, I alla sesta è I alla quarta per I alla seconda, cioè 1 per meno 1 che è uguale a meno 1, e così via. Invece le potenze di I come esponenti dispari risultano multiple di I secondo un numero reale. I alla 1 è uguale a I per definizione di potenza, I alla terza è uguale a I alla seconda per I, cioè uguale a meno 1 per I che fa meno I. I alla quinta è uguale a I alla quarta per I, cioè a 1 per I uguale a I, e così via. Riassumendo, I alla 2N è uguale a meno 1 alla N, e I alla 2N più 1 è uguale a meno 1 alla N per I. Usando queste proprietà delle potenze di I si può rappresentare ogni numero complesso per mezzo di un polinomio di primo grado in I. Per esempio il numero complesso rappresentato dal polinomio 3I alla quarta, meno 5I alla terza, più 7I alla seconda, meno 2I più 9, è rappresentabile per mezzo del polinomio 3 per 1, meno 5 per meno I, più 7 per meno 1, meno 2I più 9, che è uguale a 5 più 3I, il quale è equivalente all'altro per quanto abbiamo detto sulle potenze di I. Per riassumere, un numero complesso Z ammette una rappresentazione algebrica per mezzo di un polinomio del tipo Z uguale a più B, dove A e B sono numeri reali e I è l'unità immaginaria tale che I alla seconda è uguale a meno 1. A viene detta parte reale del numero complesso Z e B è la sua parte immaginaria. Con questa rappresentazione è facile calcolare l'operazione di addizione e moltiplicazione tra due numeri complessi. Se Z1 è uguale a 1 più B1I e Z2 è uguale a 2 più B2I, allora Z1 più Z2 è uguale ad A1 più B1I più A2 più B2I, cioè ad A1 più A2 più B1 più B2 che moltiplica I. Le parti reali immaginaria della somma di due numeri complessi, cioè sono le somme delle corrispondenti parti dei due addendi. Per esempio 3 meno 2I più 5 più 7I è uguale a 8 più 5I. Per la moltiplicazione la formula è più complicata, ma non è necessario imparare la memoria, perché basta sapere moltiplicare i polinomi e ricordarsi che I alla seconda è uguale a meno 1. Se Z1 è uguale ad A1 più B1I e Z2 è uguale ad A2 più B2I come prima, allora Z1 per Z2 è uguale ad A1 più B1I per A2 più B2I. E moltiplicando si ottiene A1 per A2 più A1 per B2I più A2 per B1I più B1 per B2 per I alla seconda. Quindi A1 per A2 meno B1 per B2 più A1 per B2 più A2 per B1 per I. Risultato che abbiamo ottenuto sostituendo meno 1 opposto di I alla seconda e raccogliendo I 3 secondo al terzo termine. Per esempio, 3 meno 2I per 5 più 7I è uguale a 15 più 21I meno 10I meno 14I alla seconda, cioè è uguale a 15 più 21I meno 10I più 14, che fa 29 più 11I. L'operazione di sottrazione si riconduce a quella di addizione cambiando il segno del sottraendo. Per esempio, 3 meno 2I meno 5 più 7I è uguale a 3 meno 2I meno 5 meno 7I, che fa meno 2 meno 9I. Per discutere la divisione, invece, conviene introdurre il concetto di coniugio complesso. L'operazione che associa il numero complesso Z uguale A più B e il numero complesso Z barra uguale A meno B, ottenuto cambiando il segno della parte immaginaria e chiamato complesso coniugato di Z. In alcuni testi, il complesso coniugato di Z viene indicato mediante un asterisco. Allora, per esempio, se Z è uguale a 3 meno 2I, il suo complesso coniugato è Z barra uguale a 3 più 2I. Da questa definizione risulta evidente che il complesso coniugato del complesso coniugato di numero Z è uguale a Z stesso, che il complesso coniugato della somma di due numeri è la somma dei loro complessi coniugati. E puoi verificare per esercizio che il complesso coniugato del prodotto di due numeri è uguale al prodotto dei loro complessi coniugati. Una proprietà importante legata alla coniugazione complessa è il fatto che il prodotto di numero complesso per il suo complesso coniugato è un numero reale maggiore o uguale a 0. Infatti, se Z è uguale a più B, allora Z barra è uguale ad A meno B e Z per Z barra è uguale ad A più B per A meno B. È il prodotto della somma di due termini per la loro differenza, quindi la differenza dei loro quadrati. A alla seconda meno B alla seconda che fa A alla seconda meno B alla seconda per I alla seconda e dato che I alla seconda uguale a meno 1 si ottiene che Z per Z barra è uguale ad A alla seconda più B alla seconda, il quale è un numero reale perché A e B lo sono ed è maggiore o uguale a 0 perché è somma di due quadrati. Fatta questa premessa, si dice reciproco del numero complesso non nullo Z uguale A più B, il numero complesso 1 su Z o Z alla meno 1 definito da Z barra fratto Z per Z barra, cioè A meno B fratto A alla seconda più B alla seconda che si può anche riscrivere come A fratto alla seconda più B alla seconda meno B fratto A alla seconda più B alla seconda per I. Il motivo del nome è che il prodotto tra un numero complesso non nullo e il suo reciproco è sempre uguale a 1. Infatti Z per Z alla meno 1 è uguale a Z per Z complesso coniugato fratto Z a Z complesso coniugato, cioè uguale a Z per Z barra fratto Z per Z barra che fa 1. Per esempio, dato il numero complesso Z uguale a 3 meno 2I, il suo complesso coniugato è Z barra uguale a 3 più 2I. Così Z per Z barra è uguale a 9 più 4 che fa 13. E il reciproco è Z barra fratto Z per Z barra, cioè 3 più 2I fratto 13, che è uguale a 3 tredicesimi più 2 tredicesimi I. Se moltiplichiamo Z per il suo reciproco otteniamo 3 meno 2I per 3 tredicesimi più 2 tredicesimi I, che fa 9 tredicesimi più 6 tredicesimi I meno 6 tredicesimi I più 4 tredicesimi, dove ho tenuto conto del fatto che la seconda è uguale a meno 1. Sommando i termini simili si ottiene 13 tredicesimi più uguale a 1. Grazie alla nozione di reciproco la divisione viene trasformata nella moltiplicazione del dividendo per il reciproco del divisore. Quindi W diviso Z è uguale a W per Z alla meno 1, cioè W per Z barra fratto Z per Z barra. Se per esempio W è 5 più 7I, allora W diviso Z è 5 più 7I diviso 3 meno 2I, cioè 5 più 7I per 3 tredicesimi più 2 tredicesimi I, che fa 15 tredicesimi più 10 tredicesimi I più 21 tredicesimi meno 14 tredicesimi, cioè 1 tredicesimo più 31 tredicesimi I. Verifica per esercizio che questo risultato concorda con la definizione di quoziente, cioè che se moltiplichiamo questo numero per il divisore Z è uguale a 3 meno 2I, otteniamo il dividendo W uguale a 5 più 7I. La potenza con un esponente intero è altrettanto facile da calcolare. Se l'esponente è positivo basta usare la formula per la corrispondente potenza del binomio. Per esempio 3 meno 2I alla terza è uguale a 3 alla terza più 3 per 3 alla seconda per meno 2I più 3 per 3 per meno 2I alla seconda più meno 2I alla terza, che fa 27 meno 54I meno 36 più 8I, cioè meno 9 meno 46I. Se l'esponente è negativo basta sostituire la base col suo reciproco e cambiare il segno dell'esponente. Così 3 meno 2I alla meno 2 è uguale a 3 tredicesimi più 2 tredicesimi i tutto al quadrato, che fa 9 centosessantanovesimi meno 12 centosessantanovesimi i meno 4 centosessantanovesimi, cioè 5 centosessantanovesimi meno 12 centosessantanovesimi i. Come vedi, a parte la questione della divisione che richiede il concetto di coniuso complesso di reciproco, le altre operazioni si calcolano esattamente come le operazioni tra polinomi, i, tenendo conto però del fatto che I alla seconda è uguale a meno 1. Ma bisogna fare attenzione a non abusare di intuizione, come il seguente esempio dimostra. Dato che meno 1 fratto 1 è uguale a 1 fratto meno 1, allora la radice di meno 1 fratto 1 è uguale alla radice di 1 fratto meno 1. Così radice di meno 1 fratto radice di 1 è uguale a radice di 1 fratto radice di meno 1, da cui si ottiene che I è uguale a 1 fratto I. Ma se le cose fossero così, moltiplicando entrambi i membri dell'uguaglianza per I, si otterrebbe I alla seconda uguale a 1. Cotrariamente al fatto che I alla seconda è uguale a meno 1. Dov'è l'errore? Prova a mettere in pausa il video e a trovare la soluzione. L'errore è stato quello di estendere indebitamente una proprietà dei radicali, cioè che la radice di un rapporto è uguale al rapporto tra le radici. Questa proprietà vale solo se numeratore e denominatori sono entrambi positivi, cosa che nell'esempio non è vero. Nella prossima lezione affronteremo la questione delle radici, così potrei approfondire ulteriormente l'analisi di questo esempio. Grazie. 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 Grazie.